La noce è mia mi Bugatti di Aida Jespica qui in un caffè nel deserto sicuramente uno dei brani che sarà una delle hit dell'estate ma è qui con noi, miei cari ascoltatori un'attrice, presentatrice, showgirl venezuelana e proprio lei la cantante di questo brano una delle donne più belle del mondo Aida Jespica, ciao Aida! Wow, grazie! Ciao, 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 ciao Sì, adesso cantante Tuo primo singolo Aida, ma raccontaci un po' questa Bugatti com'è nata quest'idea? Guarda, ti dico la verità io proprio ho iniziato tutto come un gioco poi alla fine è diventata una passione veramente, ho avuto delle persone intorno a me come Mariana Batemanu, Mascalo il produttore che comunque alla fine mi hanno dato quel passo per dirmi tu se la puoi fare hai una voce, perché no? e fare una canzone e ovviamente poi alla fine abbiamo deciso di fare questa musica latina più spagnolo perché la mia lingua è spagnolo e abbiamo deciso di fare un reggaeton per l'estate Poi il reggaeton, diciamo, è l'anima dei sudamericani l'allegria Eh sì, è vero è quello che sta andando veramente in tutto il mondo veramente, sì noi veramente in Venezuela, va bene in Sud America il reggaeton va tantissimo però adesso è veramente in tutte le parti Aida, il brano racconta di una noce a Miami Gli amici di queste persone che comunque allora, tra queste persone che comunque sono amici, poi alla fine si innamorano ecco, si trovano in tutte le parti in qualsiasi parte, nelle feste, nelle parti di qua, di là in macchina e poi alla fine finiscono insieme Aida, questo è il tuo primo brano Tu in passato hai provato a decidere qualche canzone oppure era un sogno oppure un desiderio che avevi messo da parte? No, guarda ovviamente io ho fatto il basalino e ho cantato veramente ma non è la stessa cosa comunque poi alla fine stare nel studio cantare provare di nuovo sentir che la tua voce è un'altra cosa è veramente veramente mi sono innamorata di questa nuova professione È stato difficile incidere una canzone, un brano oppure è venuto tutto in maniera naturale? No, vabbè, se vuoi un lavoro indietro veramente comunque ovviamente non è che ho fatto scuola di canto ho iniziato con poche lezioni ma tipo l'anno scorso ma ovviamente tu li provi lì in quel momento ma quando arrivi in studio prova, ecco, non è stare a basse comunque c'è un lavoro indietro devi lavorarsi tanto Aida è scoccata la scintilla con il canto cioè dobbiamo aspettare altre canzoni oppure secondo te è un episodio isolato solo per l'estate? Sì, esperiamo dai, sì, sì ci sono tante altre ho fatto altre comunque ma sono molto molto più lente poi alla fine abbiamo deciso di fare un'altra più per l'estate ho fatto il videoclip l'altro ieri che guarda parlo il lanciamento da Miami perché domani finalmente parto a Miami dopo due anni e mezzo che non vedo mio figlio perché finalmente mi hanno dato il visto e domani vado a vedere il mio figlio sono super felice veramente che bello sì, guarda comunque è un anno che comunque ci sono tante soddisfazioni sono felice sono molto felice farò il lanciamento giovedì del nuovo videoclip che veramente è stato lavorato veramente molto bene con Claudio Sagarin veramente poi lo vedrete poi lo vedrete per essere che vi piace Aida puoi già svelarci come fare per vedere poi il tuo nuovo videoclip dove dobbiamo collegarci sì, ovviamente lo metterò anche sulla piattaforma di YouTube anche poi anche su Aida Jessica nel mio sito Aida Jessica Fissal ecco poi comunque lo vedrete anche su YouTube Aida io ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti perché per essere il tuo primo brano sei stata davvero bravissima è un brano molto orecchiabile che ti porta proprio a cantare e soprattutto poi dopo questo periodo di pandemia tutti noi abbiamo bisogno di divertirci e ballare sì, è vero è vero è vero poi mi raccomando imparate la crorassia eh sì guardatemi sul mio Instagram ti taghiamo balliamo facciamo un balletto faccio anche io un balletto ti taggo e tutti i nostri ascoltatori poi la manderemo bravo manderemo tante volte manderemo tante volte il tuo brano qui sia in Italia a New York che a Tenerife che hai fan tu in tutto il mondo ovviamente tutto il pubblico che stai ascoltando adesso grazie per essere stata mia ospite in un caffè nel deserto e ancora tanti auguri e dai un abbraccio anche da parte nostra al tuo figlio che non vedi da due anni grazie grazie mille grazie grazie Aida Bugatti un grande bezzo Bugatti un bugatti baci ciao ciao Aida ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti